Nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, tutte le componenti del sistema sono state chiamate a raccolta a Castelnuovo di Garfagnana, soproposta della Regione Toscana al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per partecipare per la prima volta in Italia ad un'esercitazione per definire un nuovo modello in grado di fare scuola a livello nazionale nella gestione dei soggetti fragili in situazioni di emergenza. Ma come si è svolta operativamente? All'avvenuta scossa il personale incaricato, si è ricato al centro operativo comunale ha attivato tutte le procedure per le verifiche delle aree di attesa e da lì è partita l'emergenza e il coordinamento con la funzione 2 per andare a testare all'interno delle aree di attesa individuate la schietatura delle schede sviluppe. Il fatto che Castelnuovo sia stata scelta come banco di prova per un'esercitazione in grado di fare scuola ha lasciato ovviamente soddisfatto il primo cittadino. È un riconoscimento importante per Castelnuovo e per tutta la Garfagnana, per tutto il mondo dei volontari che ringrazio dalla Protezione Civile a tutte le associazioni e che stanno dando una prova di grande affidabilità e di grande professionalità su un'esercitazione che è un bel banco di prova molto importante. Alla fine la risposta venuta dalla macchina operativa presente è stata positiva. Abbiamo investito tanto sulla formazione sia del personale volontario sia del personale sanitario che partecipa a questa esercitazione e veramente a prima vista sembra proprio di sì. Sono pronti e sono preparati. La mattinata di esercitazione si è conclusa con il report finale dell'operazione presso il centro operativo presentato al sindaco e alle autorità sanitarie di protezione civile.